Marco Borriello non ha dimenticato Belen Rodriguez, anzi ha scelto una compagna del tutto simile alla bellissima showgirl argentina. L'attaccante del Milan è stato sorpreso a Capri dal fotografo di Chi, in compagnia del volto femminile di guida al campionato, la 33enne Susanna Petrone. Il fotoservizio in edicola in questi giorni mostra la straordinaria somiglianza della nuova compagna con Belen, sia nel lato A che nel lato B. Dopo la rottura con la showgirl argentina è la prima volta che il giocatore si fa vedere in pubblico con un'altra donna. Di certo i gusti di Borriello sembrano decisamente orientati su un preciso tipo fisico, mora mediterranea, carnagione scura e forme sinuose.